Chiuso il bando di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza migranti tra società e onlus, sono 21 le realtà che hanno partecipato, solo una è stata esclusa. Le altre sono state inserite in una graduatoria che al momento riesce a garantire la copertura di 1.127 posti, sebbene in realtà la necessità sia quella di fornire in provincia almeno 1.500 sistemazioni per altrettanti richiedenti asilo. Per questo la prefettura ha stipulato una serie di convenzioni con altri soggetti che già effettuano il servizio, tra queste la Caritas. Il bando aveva un importo di 36 milioni e 950 mila euro e prevedeva il rinnovo per tutto il 2019. La distribuzione dei posti riguarda tutta la provincia, Cremone ovviamente è concentrata la maggioranza dei richiedenti, poi suddivisi in altre piccole strutture appartenenti ai varienti nei piccoli comuni del Cremonese e del Cremasco.